Sono esasperati i cittadini di Surbo che da mesi devono convivere con il problema dei miasmi. Emissioni maleodoranti provenienti dall'area limitrofa a Masseria Trapanà che rendono l'area irrespirabile e che si sono poi estese ai comuni vicini. E stanno mettendo a rischio non solo la qualità di vita di chi abita in questa zona ma anche l'economia locale considerando che molti turisti hanno disdetto le prenotazioni proprio a causa di questi i miasmi. E di questo si è discusso in un incontro a Surbo organizzato al locale in New York sostenuto dal titolare dell'attività che gestisce anche un BNB il quale afferma come un intervento non sia più rinviabile. Non è stato un bel da farsi diciamo nel prendere addirittura delle disdette dovute anche al passaparola che si sollevavano queste puzze anche durante quest'estate e molti magari hanno preferito cambiare rotta. Noi vogliamo solo trovare soluzioni per poter lavorare e per poter dare un futuro alla salute pubblica anche dei nostri figli. All'incontro presenti anche Angelo Perroni ingegnere esperto di materie ambientali e il consigliere comunale Filomena Dantini che hanno sottolineato l'importanza di risalire presto all'origine di questi miasmi e di un intervento risolutivo. Il problema che un tecnico si pone è perché queste missioni si stanno sentendo così forti adesso e non prima e quindi quello che un tecnico può chiedere è che vengano effettuati tutti i maggiori possibili controlli in modo tale che si possa risolvere il problema. Noi facciamo parte di questo tavolo tecnico, io mi auguro che il sindaco lo convochi quanto prima perché ad oggi c'è stata una convocazione inusuale all'interno del consiglio comunale dove l'ARPA ha partecipato però mancavano i rappresentanti istituzionali degli altri comuni quindi mi auguro che tutte le parti politiche e le parti tecniche riescano poi a venirne a capo affinché si individui il responsabile ma soprattutto le cause dell'impatto. Presente anche Nandu Popu, cantante dei Sud Sound System che invita tutti i cittadini a segnalare le emissioni maleodoranti all'ARPA Puglia utilizzando l'apposito QR code. Partecipate, il territorio è casa vostra, l'usalento non si tocca e dobbiamo mettere in condizioni ARPA e tutte le istituzioni di attivarsi ma tutto questo deve avvenire sotto la vostra spinta. E su questo delicato tema già a inizio agosto era intervenuto il consigliere regionale e capogruppo della Puglia Domani Paolo Pagliaro che aveva presentato un'interrogazione urgente rivolta all'assessora regionale all'ambiente Nagrazza Maraschio e anche una richiesta di audizione in Commissione Ambiente per sollecitare risposte su questa situazione diventata un grave problema igienico-sanitario. Audizione che si svolgerà lunedì 16 ottobre.